Musica Consorzio Centro Sportivo Meridionale, riunione per confermare le cariche, due sindaci incompatibili. Aria interna e caldoro servono sempre nuove idee, purtroppo la situazione in Campania peggiora. Crisi dei centri storici, Paladino lode all'iniziativa di MG Immobiliare, servono incentivi anche per riportare la gente a vivere nei centri storici. Montesano sulla Marcellana, dal comune la delibera di giunta che istituisce il bonus pronido. Fuzzali, le claravirsi ritira dal campionato di C1. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione di 1TV. Partiamo dal Consorzio di Bacino, Centro Sportivo Meridionale, dove si è tenuto nei giorni scorsi la riunione del nuovo CDA per ratificare e appurare l'essenza di eventuali cause di incompatibilità tra i nuovi componenti. Una riunione del Consiglio che aveva suscitato anche le polemiche su Facebook del gruppo Noi con Salvini Valo di Diano perché appunto l'incontro e il programma era a porte chiuse. Abbiamo raggiunto telefonicamente il Presidente Vittorio Esposito che chiarisce e risponde ai dubbi sollevati dal gruppo Noi con Salvini Valo di Diano e parla anche delle incompatibilità a sedere in Consiglio da parte dei sindaci di Casala Consiglia Cavallone e del sindaco di Sossano Pellegrino. Io ho convocato un incontro dei consiglieri del CDA eletti nella seduta del 14 novembre 2016 perché alcuni sindaci nominati in quell'assemblea non avevano firmato l'adesione di incompatibilità e inconveribilità per accettare la carica di membro del CDA del Centro Sportivo Medio Giorano perché qua parliamo di Centro Sportivo Medio Giorano. Noi con Salvini non lo so chi sono, non li conosco, però sicuramente sono dilettanti allo sbaraglio. Un CDA non si fa a porta aperte, non è un'assemblea, quindi poi è stata una convocazione da parte mia che sono Presidente uscente e solo per questo ricopro la carica ancora da Presidente perché se non fossi stato già Presidente anche la carica di Presidente non sarebbe stata ratificata perché la delibera di quel CDA non è stata ancora pubblicata in quanto alcuni sindaci hanno delle incompatibilità e quindi non possono accettare la carica di membro del CDA. Questo è quello che è venuto fuori da questa riunione, che si fa non a porte aperte ma si fa a porte chiuse. Quella è un'azienda, non è che le aziende fanno, non è solo un organismo politico, è un'azienda. Quindi praticamente non è che i CDA delle aziende si fanno a porte aperte. C'è stata questa riunione in cui sono emerse delle incompatibilità, quali sono? Ci sono il sindaco di Sala Considina, Francesco Cavallone, il sindaco di Sassano, Tommaso Pellegrino che hanno delle incompatibilità e ridunceranno all'incarico e quindi si dovrà tornare in assemblea per nominare i nuovi membri del CDA. Ci sono già delle idee in tal senso? No, ancora no e non mi sembra di dirlo in pubblico perché adesso saranno la parte politica a fare le riunioni per capire bene come si dovranno rimpiazzare questi qua o altri che ne vorranno far parte o chi vuole uscire da questo CDA che si dovrà impediare. Ma in effetti il consorzio in questo momento è garantito dal vecchio CDA perché fino a che non viene nominato il nuovo CDA resta in carica il vecchio CDA, quindi non è un organismo senza governo. Quali sono le motivazioni delle incompatibilità? Ma non ci sono le incompatibilità, uno perché il comune di Sala Consiglina ha dei contenziosi con il consorzio, con il centro sportivo meridionale e l'altro il sindaco di Sassano, ci sono problemi con la carica di presidente del parco nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburgo. Andiamo avanti, la crisi economica continua a penalizzare in particolare i piccoli centri che secondo l'ex presidente della regione Campania Stefano Caldoro meriterebbero maggiore attenzione e nuove iniziative. Caldoro ritorna anche sul progetto della strategia delle aree interne su cui durante il periodo della sua presidenza aveva puntato, evidenziando però come purtroppo tutto è fermo criticando anche la nuova politica che pare porre maggiore attenzione ai grandi centri e non alle aree interne. Cosa dannosa per Caldoro e soprattutto per la provincia di Salerno vista la sua estensione e visto il fatto che è costituita in gran parte da piccoli centri. Per quanto si tenti di trasmettere fiducia nel futuro e di noi in una prossima ripresa i dati però restano sconfortanti e richiedono soprattutto iniziative serie e concrete. Ad avere la peggio i piccoli centri, i comuni periferici e distanti dalle città capoluogo di provincia e regione. A preoccupare ulteriormente anche i dati presentati dalle Camere di Commercio regionali che parlano di numerosi esercizi commerciali chiusi nei primi mesi del 2016, in particolare nei centri storici e quindi nei piccoli borghi. Un dato prevedibile evidentemente è dato che già nel 2014 in regione Campania l'allora presidente Stefano Caldoro aveva insistito e puntato tutto sulla realizzazione di strategie per le aree interne, individuando diverse macro aree intorno al quale realizzare una strategia di sviluppo. Tra questo è il Vallo di Diano che aveva raccolto l'interesse e l'attenzione dei referenti della regione e dell'allora presidente Caldoro che nell'analizzare il progetto aveva individuato lo stesso come ideale per la candidatura del Vallo di Diano come seconda area pilota dopo l'area di Altepinia, a discapito di altre aree come il Cilento interno e del Tamaro di Terno. Un progetto inteso proprio ad evitare lo spopolamento. Purtroppo alcune decisioni portano invece ad allontanare le aree interne dai capoluoghi e dai principali centri decisionali. Sotto accusa in particolare la soppressione delle province che Caldoro non ritiene necessaria, mentre era più importante in ottica di risparmio secondo l'ex presidente della regione, ridefinire i confini delle stesse regioni lasciando però la possibilità alle province di intervenire, anche al fine di offrire maggiore supporto proprio alle aree interne. Lo spreco che noi abbiamo con troppe istituzioni, hanno sciolto le province ma forse non era la cosa più urgente. Bisognava sciogliere le regioni, io l'ho proposto quando ero presidente. Prevedere quindi una macchina amministrativa più leggera più leggera e meno costosa, questo mi pare assolutamente essenziale e quando poi devi governare devi tentare di valorizzare le comunità locali in particolare i comuni. Qui per esempio abbiamo realizzato le aree interne una prima grande esperienza di comunità che si istituzionalizza anche con i fondi europei quindi che non chiede i fondi solo per il comune ma per un'area, per dare una risposta di sistema a una cittadinanza che chiaramente ha esigenze particolari come quelle dell'area interna. Quindi bisogna avere sempre più idee, più proposte però vedo che purtroppo oggi la situazione è molto peggiorata perché vedo che sia l'amministrazione regionale, la crisi economica peggiora la situazione sulla sanità come è noto e con la chiusura di ospedali e sulle vicende delle opere pubbliche, vedo che tutto è bloccato e quindi a discapito dei cittadini. Io ho voluto privilegiare alcune politiche di aria questo mi ha fatto avere molte critiche in particolare dal comune di Salerno si ricorderà quando io ho avuto proprio il modo di aprire a tutti i comuni con la possibilità di avere dei finanziamenti perché qui Salerno comunque è una città importante ma sono 100.000 persone la provincia di Salerno ha altre 800.000 cittadini che vivono in realtà in comunità più piccole o medie che hanno bisogno di essere curati io ho pensato soprattutto a riequilibrare un rapporto tutto sbilanciato nella città di Salerno che non era corretto proprio per la democrazia e per la rappresentatività di questi territori e sono orgoglioso di aver fatto questo vedo che oggi purtroppo si ritorna al vecchio sistema, conta solo la città capoluogo e si abbandonano le altre comunità Torniamo a parlare della desertificazione dei centri storici in particolare a Sala Consilina sulla vicenda interviene ai nostri microfoni anche l'avvocato Angelo Paladino presidente dell'osservatorio europeo per il paesaggio che oltre ad applaudire l'iniziativa di Giovanni Campiglia di MG Immobiliare con l'offerta di sei mesi gratis di affitto per chi apre una nuova attività commerciale nel centro storico rimarca come c'è la necessità di incentivare e quindi adottare iniziative simili anche per riportare la gente a vivere nei centri storici visto che case appartamente, visto che non sono più abitate si stanno subendo un lento e irrecuperabile deterioramento riportare anche le coppie a vivere nei centri storici questo è l'appello lanciato dall'avvocato Paladino che ascoltiamo Io ho avuto la fortuna e l'orgoglio di essere sindaco all'inizio degli anni 90 quando Sala aveva il più alto reddito in assoluto di tutto la zona sud di Salerno oggi viviamo un momento molto particolare di depressione economica e sociale e la chiusura dei magazzini è solo un aspetto che ci deve preoccupare perché significa che non c'è più l'attività commerciale che prima c'era una sala ma ci deve preoccupare anche l'abbandono delle case, l'abbandono degli edifici i palazzi hanno moltissimi appartamenti sfitti il centro storico è pressoché abbandonato ci sono pochissime famiglie che sono rimaste e questo non solo porta a uno spopolamento, a una modifica del paesaggio ma porta anche a un problema di sicurezza e a un problema anche di staticità dei manufatti andè che nel centro storico ce ne sono verificate dei crolli perché le case sono disabitate allora bisogna rimboccarsi le maniche qui non c'è nessuna polemica nei confronti di nessuno è un momento particolare però mettere la testa sotto la sabbia e dire che non esiste problema non è giusto non è che parlando di queste cose noi portiamo discrediti noi cerchiamo di risolvere i problemi di quelle strade che prima erano affollate prima erano piene di gente e di magazzini che oggi non sono più quindi è l'interesse dei commercianti che sono rimasti vedere rivitalizzare via Matteotti, Mezzacapo, Piazza Umberto I prima è tutto il centro storico non parlando l'iniziativa dell'agenzia immobiliare è molto intelligente quella di dire sei mesi pagate il fitto sei mesi no però a questo va aggiunto iniziative pubbliche del comune non certamente dando soldi che non ci sono ma anche con dei vandaggi fiscali con dei vandaggi o quantomeno degli sgravi fiscali nei confronti di commercianti che vogliono rimanere lì nel centro di sala consiglina voglio aprire nel centro di sala si può fare è un discorso che secondo me il bilancio ce lo consente in più bisogna dare un incentivo per esempio alle giovani coppie per andare a vivere nel centro storico un favor per un anno vediamo per un termine assolutamente sostenibile per dire volete stare insieme volete sposarvi andate noi vi offriamo un alloggio nel centro storico e su questo il comune deve fare uno sforzo un aiuto alle giovani coppie per avere più nati e quindi per ripigliare quel processo di nuovo affollamento del nostro paese e per dare vitalità altrimenti la prospettiva è che fra poco diventiamo un paese di pensionate un dormitorio e questo certamente non è una tradizione di sala bisogna reagire la depressione com'è a sala consiglina è purtroppo in tutto il valo ideale e solo se sala ripiglia la sua funzione di locomotiva che anche gli altri paesi possono uscire da questa depressione altrimenti la perdita dei servizi da Polla a sala consiglina e altrove porterà un decadimento generale dal punto di vista economico e umano Ed ora la cronaca i militari della compagnia di sala consiglina hanno arrestato un 32enne in fragranza di reato mentre offrivano dosi di metadone ad un potenziale cliente la scena ripresa l'uomo è stato arrestato perquisito la sua abitazione dove è stato rinvenuto mezzo litro di metadone ma vediamo tutti i dettagli nel servizio I militari del nucleo operativo della compagnia di sala consiglina coordinata dal tenente Davide Acquaviva a conclusione di servizi mirati antidroga finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei centri urbani del Vallo di Diano hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne pregiudicato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti i militari hanno accertato che l'uomo offriva ad un quarantenne salernitano di acquisire una dose di stupefacente le forze dell'ordine hanno fermato l'uomo in flagranza e poi hanno condotto un'accurata perquisizione presso la sua abitazione a sala consiglina all'interno della quale i militari hanno rinvenuto e sequestrato sei flaconi contenente circa mezzo litro di sostanza stupefacente del tipo metadone e la somma in contante di 70 euro ritenuta provente dell'attività illecita il metadone è una droga sintetica ed è usualmente utilizzata per ridurre la suefazione nella terapia sostitutiva dalle dipendenze da stupefacenti la produzione la vendita legale è controllata e somministrata sotto apposite terapie esclusivamente nei confronti di pazienti iscritti presso centri di recupero l'arrestato è stato condotto agli arresti domiciliari in attesa dell'arrito per direttissimo proseguiamo con il nostro Tg il gruppo di protezione civile del comune di Sala Consilina guidato da Alessandro Pone in collaborazione con l'amministrazione comunale e la comunità montana valo di Diano ha indetto per domani pomeriggio presso l'aula consigliare del comune di Sala Consilina un semitario formativo e informativo dal titolo aspetti pratici ed operativi per il consolidamento dei versanti in frana il seminario prenderà il via alle 15.30 con i saluti del sindaco Francesco Cavallone della dirigente dell'area tecnica del comune di Sala Consilina Tg. De Nigris e del presidente della comunità montana valo di Diano Raffaele Accetta a seguire la relazione dell'ingegnere Alessandro Pone coordinatore del nucleo operativo comunale di protezione civile dell'ingegnere Antonella Cartolano redattrice del piano di protezione civile comunale che parlerà della funzione della protezione civile nelle fasi di coordinamento dell'emergenza previsti inoltre anche gli interventi dell'ingegnere Gabriele Petrocelli e di Daniela Giaffrida mentre le conclusioni saranno affidate all'ingegnere Osvaldo Carniel cambiamo argomento andiamo a Montesano sulla Marcellana dove il comune ha istituito dopo apposita delibera il bonus pronido per i piccoli iscritti alla mensa dell'asilo di Montesano per garantire il diritto al lavoro e il diritto alla maternità ci sono anche aspetti sociali relativi agli stessi bambini che scopriamo nel servizio di Rosa Romano una nuova iniziativa per l'associazione Montepruno Giovani che in collaborazione supportata dalla Banca Montepruno diretta da Michele Albanese ha organizzato per i propri associati la partecipazione al Palasport 2017 Made in Italy di Ligabue in programma al Palasere di Eboli il prossimo 28 febbraio per i soci dell'associazione Montepruno Giovani infatti è previsto un costo del ticket d'ingresso al concerto al prezzo di 49 euro che prevede anche la possibilità di viaggiare in autobus con partenza e arrivo da Sant'Arsenio continuiamo ha dichiarato il presidente dell'associazione Montepruno Giovani Giuseppe Nese queste nostre azioni a favore dei giovani del territorio la volontà come sempre è di creare aggregazione e socialità attraverso eventi di spicco che si organizzano nella nostra provincia partecipare e proporre tali iniziative è un modo diverso di stare insieme e creare le giuste condizioni che favoriscano momenti positivi tra le giovani generazioni tale attività continuanese risultano essere fondamentali per la crescita e per il confronto tra di noi ma anche come strumento di stimolo e di impulso in grado di promuovere relazioni significative che talvolta possono fare la differenza ogni volta che abbiamo dato vita a queste partecipazioni giunge siamo riusciti nel nostro obiettivo cioè valorizzare l'unione e la creazione di rapporti tra i giovani per inoltrare la partecipazione è necessario inviare una mail all'indirizzo giovani chioccio alla bcc montepruno.it entro e non oltre le ore 12 del prossimo 15 febbraio andiamo avanti recentemente è stata emanata la legge 124 della 2015 la cosiddetta legge ma dia con cui il governo è delegato ad emanare una serie di provvedimenti e decreti legislativi che riguardano la pubblica amministrazione in materia edilizia in particolare il governo ha emanato due decreti che si occupano della scia segnalazione certificata di inizio attività in passato denominata dia di cosa cambia di quali sono gli interventi edilizzi che si possono attuare e di un quadro delle autorizzazioni che riguardano le dirizie ne parla ai microfoni di Pietro Cusati l'avvocato Giovanni Giordano avvocato ricercatore di diritto amministrativo presso l'università la sapienza di Roma e collaboratore di diverse riviste in materia Allora la legge Maria con i recenti decreti legislativi in particolare con quelli che riguardano la segnalazione certificata di inizio attività cambia perché va a riorganizzare la disciplina vale a dire va a precisare con puntualità quali sono gli interventi sottoposti a segnalazione certificata di inizio attività una delle controversie giurisprudenziali più importanti che in questi anni abbiamo vissuto da operatori ha riguardato in particolare la distinzione tra gli interventi sottoposti a permesso di costruire gli interventi sottoposti a scia il tentativo che fa il legislatore in questo modo è quello di stabilire a livello legislativo quali sono gli interventi edilizi che sono sottoposti a scia proprio per superare il contrasto giurisprudenziale maturato sino a questo punto prima si chiamava DIA oggi si chiama segnalazione certificata di inizio di attività di fatto sono cambiate molte cose dalla DIA alla SCIA ovviamente diciamo l'aspetto principale che dobbiamo prendere in considerazione è la possibilità immediata di poter iniziare i lavori attraverso la segnalazione certificata di inizio di attività depositata la segnalazione il privato può iniziare i lavori ovviamente l'amministrazione ha un potere inibitorio che può esercitare in un termine stabilito che è di 60 giorni e successivamente può esercitare il potere autotutelativo su questo punto si è articolato ovviamente diciamo il dibattito giurisprudenziale e anche in questo senso il legislatore recentemente ha cercato di porre rimedio stabilendo i paletti precisi che dovrà osservare l'amministrazione nell'esercizio del potere autotutelativo ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria tra poco ben ritrovati alla seconda parte di questa edizione delle Uno News andiamo a Sala Consilina dove domenica prossima 5 febbraio sarà celebrata la 39esima giornata per la vita per tale occasione l'ufficio diocesano per la pastorale della famiglia e della vita della diocesi di Teggiano Policastro ha organizzato un incontro sul tema prendersi cura dei piccoli e degli anziani che esiterà presso la parrocchia di Sant'Anna a Sala Consilina il giorno 5 febbraio sarà celebrata la 39esima giornata per la vita l'ufficio diocesano per la pastorale della famiglia e della vita della diocesi di Teggiano Policastro organizza per l'occasione un incontro sul tema prendersi cura dei piccoli e degli anziani che si terrà presso la parrocchia di Sant'Anna a Sala Consilina il sogno di Dio si legge nel messaggio del Consiglio Permanente della CE per questa 39esima giornata si realizza nella storia con la cura dei bambini e dei nonni avere cura di nonni e bambini esige lo sforzo di resistere alle sirene di un'economia irresponsabile che genera guerre e morte educare alla vita significa entrare in una rivoluzione civile che guarisce dalla cultura dello scarto dalla logica della denatalità dal crollo democrafico favorendo la difesa di ogni persona umana dallo sbocciare della vita fino al suo termine naturale celebrare la giornata per la vita la vita significa dunque tenere insieme le generazioni nonni, genitori e bambini all'interno della famiglia che ricorda a tutti che siamo inseriti in un contesto di relazioni l'incontro del 5 febbraio a Sala Consilina avrà inizio alle ore 16.30 dopo la preghiera introduttiva interverranno i coniugi Stefano Bataloni e Anna Mazzitelli il dottor Domenico Romano ginecologo presso il Policlinico Gemelli di Roma e la dottoressa Caterina Pafundi responsabile del centro antiviolenza a Retusa le conclusioni sono affidate a Monsignor Antonio De Luca Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro Arriva una nuova importante iniziativa dell'Associazione Montepruno Giovani per quanto riguarda il prossimo evento di richiamo della provincia di Salerno il concerto di Ricabue alla Palasele in programma il 28 febbraio c'è la possibilità per gli associati di ottenere oltre che il ticket anche il viaggio andato in ritorno da Sant'Arsenio ad un prezzo davvero agevolato una nuova iniziativa per l'Associazione Montepruno Giovani che in collaborazione supportata dalla Banca Montepruno diretta da Michele Albanese ha organizzato per i propri associati la partecipazione al Palasport 2017 Made in Italy di Ricabue in programma al Palasele di Eboli il prossimo 28 febbraio per i soci dell'Associazione Montepruno Giovani infatti è previsto un costo del ticket d'ingresso al concerto al prezzo di 49 euro che prevede anche la possibilità di viaggiare in autobus con partenza e arrivo da Sant'Arsenio Continuiamo ha dichiarato il Presidente dell'Associazione Montepruno Giovani Giuseppe Nese queste nostre azioni a favore dei giovani del territorio la volontà come sempre è di creare aggregazione e socialità attraverso eventi di spicco che si organizzano nella nostra provincia partecipare e proporre tali iniziative è un modo diverso di stare insieme e creare le giuste condizioni che favoriscano momenti positivi tra le giovani generazioni tale attività continuanese risultano essere fondamentali per la crescita e per il confronto tra di noi ma anche come strumento di stimolo ed impulso in grado di promuovere relazioni significative che talvolta possono fare la differenza ogni volta che abbiamo dato vita a queste partecipazioni giunge siamo riusciti nel nostro obiettivo cioè valorizzare l'unione e la creazione di rapporti tra i giovani per inoltrare la partecipazione è necessario inviare una mail all'indirizzo giovani chioccio alla bcc montepruno.it entro e non oltre le ore 12 del prossimo 15 febbraio ed ora il calcio ieri ultimo giorno di calcio mercato nessun botto per la salernitana che fallisce l'assalto al terzino crimi mentre in uscita non c'è nessuno tutti restano a disposizione di mister bollini un ultimo giorno di mercato passato in anonimo per la salernitana che con il ds Fabiani era a Milano per le ultime ore delle trattative che avrebbero dovuto portare in Granata un terzino ma che invece ha visto l'operatore di mercato salire sul treno con un pugno di mosche una giornata convulsa che ha visto i Granata impegnati sul fronte Marco Crimi esterno di proprietà del Carpi poi passato al Cesena dopo aver trovato l'accordo con il ragazzo la salernitana non ha soddisfatto le richieste degli Emiliani prestito con obbligo di riscatto e l'affare è saltato salernitana che non ha avuto il tempo e il mercato tantomeno offriva qualche alternativa se in entrata è fallito l'affare Crimi anche in uscita non si sono registrati i movimenti Schiavi e Zito entrambi sul piede di partenza restano all'ombra della Rechia almeno fino a giugno non avendo trovato una soluzione salernitana che ha respinto la corte del Benevento per Improta e del Verona per Busellato l'ultimo acquisto in ordine di tempo del DS Fabiani è quello dunque disprocati provato ieri in allenamento al fianco di coda mentre per Donnarumma sono state escluse complicazioni dopo l'affiancicamento riportato al Polpaccio dopo la sfida del Bentegodi con il mercato finito ora a Bollini resta il tempo di lavorare con il materiale umano che ha a disposizione al Volpe ieri nel giorno del 33esimo compleanno di Capitano Rosini infatti è iniziato l'avvicinamento alla sfida dal Novara in programma sabato prossimo ed ora il calcio il futsal o meglio più vicino a casa nostra il futsal Claravì dopo una prima parte abbondante di stagione negativa chiude i battenti la squadra si ritira dal campionato di C1 da quello Juniores chiude i battenti poco dopo la metà di un campionato il futsal Claravì nella giornata di ieri è arrivata la decisione ufficiale da parte della società del presidente Vincenzo Spinelli scottato per un progetto sportivo forse troppo ambizioso e che non ha ottenuto sul campo i risultati sperati una decisione presa con grande amarezza e ponderata dal massimo dirigente della società giallonera e soprattutto a malincuore conoscendo l'amore per il futsal del numero uno un campionato di C1 partito male e proseguito peggio al quale nemmeno il mercato di dicembre ha saputo porre rimedio inutili gli sforti fatti da tutta la diligenza che nella giornata di ieri ha preso dunque la decisione ultima abbandonare il campionato di C1 e quello Juniores dove anche si stava facendo bene dicevamo di una scelta ponderata ma nell'area da diverso tempo un'annata da incubo che si è concluso nella peggiore dei modi ad incidere sulla decisione anche gli ultimi avvenimenti sul campo dalla prima giornata oltre agli infortuni il presidente Spinelli ha lamentato da sempre la carenza di una classe arbitrale che a suo dire ha influito negativamente sulla meta delle partite disputate inoltre il presidente ci ha creduto fino alla fine ma sicuramente la sconfitta di sabato interna rimediata contro Caserta Fuzzal è stata la goccia che ha fatto traboccare l'evaso e le speranze di salvezza ormai divenute impossibile hanno spinto a lasciare il massimo torneo regionale l'auspicio è che il prossimo anno si possa ritornare di nuovo in campo per un progetto importante e al tempo stesso ambizioso e con lo sport termina il nostro TGI grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata grazie per averci seguito